Pillole di Non Solo Suoni Tra l'altro due coppie sposate che però si separarono proprio al culmine della carriera In carriera hanno venduto qualcosa come 400 milioni di dischi diventando popolari in tutto il mondo e soprattutto i primi non anglofoni ad imporsi anche in paesi di lingua inglese appunto Provenienti da storie molto diverse fra loro qualcuno era già popolare prima di formare gli ABBA come Bjorn e Agneta le qui nozze nel 1971 furono anche un evento gossip molto seguito mentre altri come Frida provenivano dalla Norvegia Va detto che una figura importante è stata però anche quella di Michael Trito il tecnico del suono e ritenuto l'artefice del cosiddetto ABBA sound il primo grande successo nel 1974 quando gli ABBA vincono l'European Song Contest con Waterloo un brano che cantarono in costumi ottocenteschi rievocando l'abbigliamento di Napoleone protagonista dell'omonima battaglia anche se il tema del brano era una sconfitta sentimentale con Waterloo gli ABBA registrarono il loro primo film clip o promo clip che permise loro di farsi conoscere anche in Europa seguì un tour ma non di successo come sperato anche perché la band era ancora molto abituata a cantare in studio uscirono comunque Honey Honey e un remix di Ring Ring nel 1975 invece ecco il boom con il singolo I do I do I do I do I do in stile retro in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Germania mentre nel Regno Unito si imposero con SOS il più grande successo degli ABBA in Italia anche perché come lato B aveva Mamma Mia una canzone mai uscita come singolo nella prima raccolta del gruppo del 1976 era poi contenuto un altro grande successo come Fernando numero uno in ben 13 paesi poi è stata la volta dell'album Arrival di cui fa parte la hit Dancing Queen presentata al teatro dell'Opera di Stoccolma alla presenza del re di Svezia la sera del 18 giugno 1976 alla vigilia del suo matrimonio con la moglie Silvia a cui proprio era dedicato tra l'altro è anche considerato il brano più popolare degli ABBA nel mondo dopo questo disco la cosiddetta ABBA Mania era ormai certificata soprattutto in Australia e Nuova Zelanda ma non solo nel tour seguente e per la tappa di Londra furono chiesti 3 milioni e mezzo di biglietti sufficienti per riempire ben 580 volte la Royal Albert Hall mentre i 12 concerti australiani furono visti da un totale di 160.000 persone venne quindi realizzato anche un film documentario sul tour intitolato ABBA Spettacolo che uscì in contemporanea con ABBA The Album lanciato dal singolo The Name Of The Game l'anno dopo fu quello anche del punto più alto in carriera ovvero il 1978 quando gli ABBA lavorarono molto per la promozione negli Stati Uniti ad esempio cantando allo show di Olivia Newton-John ma proprio a questo punto ecco che qualcosa cambia beh ne parleremo domani allora a presto!